segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te nessuno 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 può fare il verginello in questo paese però neanche farla morale o fare quella che siccome c'è sto io sono diversa no non funziona così siccome c'è sto io sono diversa fare l'elenco dei parenti amici forse di quelli della destra si questo elenco si risolve in una pagina in quelli di sinistra ce ne vorrebbero 100 detto questo morani io non sono d'accordo con con la premier meloni io credo che l'occupazione della sinistra non sia finita non finirà mai a dei secoli e nei secoli proprio amen proprio sai come perpetua sarà nei secoli dei secoli perché la nostra società sono forse 50 80 anni che è come dire permeata da una presenza di non voglio dire sinistra partito di un'area di sinistra di un'area di intellettuali di professore velli ma assolutamente no ma no non c'è in nessun caso col professore velli perché non mi sembra che il professore velli sia stato nominato in aziende pubbliche televisive piuttosto che qualora fosse ma infatti non capiscono non mi riferivo in nessun modo a revelli mi riferivo a ben altro non a revelli ok e appunto io continuo a vedere un'occupazione cioè assolutamente ma dove chi facciamo un po di nomi dai cioè sono ovunque sono ovunque sembrano i vietconga esatto sembrano i vietconga sono fra noi e non fanno prigionieri vedi quale la differenza alessia morani vede morani vede che noi siamo ovunque siamo ovunque però poi siccome siamo ovunque no perché alla fine non si capisce neanche dove siamo morani vorrei spiegare questa mia frase sa perché perché quando la sinistra è al potere in questo caso sì sinistra intesa come partiti di governo non fa prigionieri cioè quelli che la pensano diversamente vengono mandati via invece adesso no no la destra è un pluralismo lei senta un discorso di la destra inclusiva pluralista noi siamo per l'inclusione non per l'esclusione infatti questo è non è stato mandato via nessuno anzi è stato premiato chi viene dall'altra parte mi creda non c'è nessuna allora sentiamo le commessore belli e poi ancora meno di un familismo mi fa ridere abbiamo abbiamo appena avuto in collegamento la piccolotti moglie di frato ianni e nessuno dice niente è stata eletta però anche anche l'olobrigide è stato eletto la meloni arianna meloni sono anni vent'anni trent'anni forse che fa politica esattamente come piccolotti che però mi interessa di stare lì come lo hanno gli altri però nessuno fa le prediche agli altri siccome quando uno dice l'amichettismo è finito non è finito niente allora smettiamo di fare le prediche e facciamo e non facciamo finta che invece stiano facendo un'occupazione del potere se volete sotto gli occhi di tutti come anche scusate la rete concorrente dalla rai allora sentiamo di nuovo meloni però alla domanda non te lo dico si candiderà o non si candiderà le elezioni europee poi andremo grazie a tutti grazie a tutti